Cari, gentili lettori, mi sono mancata? Mentre i membri dell'alta società si interrogavano sulla mia identità e le mie fonti, l'occupazione di questa autrice era una sola. Affinare le mie doti. No, meglio ancora, affilare i miei coltelli. Per ciascuno di voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.